Buongiorno, ben trovati, appuntamento consueto e mattutino con Mattina Sud sul canale 14 Antenna Sud. Ed allora, un'ultima ora appena giunta nella nostra redazione questa mattina perché avrebbero tentato una rapina ad un portavalori sull'autostrada A14 e per coprirsi la fuga avrebbero dato alle fiamme due veicoli sulle carreggiate Nord e Sud. E' accaduto sulla Bologna Taranto al chilometro 656 nel tratto tra Molfetta e Bitonto che per questo è stata temporaneamente chiusa poco prima delle ore 7.30. Pregherei i miei tecnici di regia di mostrare le immagini che abbiamo a disposizione. Lo rende noto, autostrade per l'Italia, gli incendi sono stati spenti ma sono in corso le necessarie operazioni di rilievo da parte della polizia stradale e le operazioni di bonifica del tratto. Attualmente all'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato in entrambe le direzioni e si registrerebbero 4 km di coda in direzione Pescara. Agli utenti dunque diretti verso Pescara si consiglia di uscire a Bitonto per correre la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Molfetta. Percorso inverso invece per gli utenti diretti verso Bari. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i vigili del fuoco, i mezzi di soccorso sanitario e meccanico, le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione Ottavo Tronco di Bari di Autostrade per l'Italia. E sul posto per noi si sta recando anche il collega Paolo Franza che credo abbia raggiunto telefonicamente per dettagli e aggiornamenti. Paolo ci sei, mi senti? Sì, buongiorno Valentina, buongiorno ai nostri telespettatori. Come accennavi da studio questa mattina alle prime ore del giorno c'è stato un tentato assalto ad un portavalori, una tentata rapina sull'autostrada 14. I malviventi per coprirsi la fuga hanno dato alle fiamme 3 SUV e 2 autoarticolati sulle carreggiate nord e sud. È accaduto, come dicevi, sulla 14 in Bologna-Taranto al km 656 nel tratto Molfetta-Bitonto, tratto che è ancora chiuso ed è chiuso da quando c'è stato l'assalto poco dopo le 7. Gli incendi sono stati spenti ma sono in corso le operazioni di rilievo da parte della Polizia stradale e le operazioni di bonifica del tratto. Proprio per guadagnarsi la fuga hanno dato alle fiamme questi mezzi creando code e di conseguenza è stato anche difficile sia per la Polizia che per i vigili del fuoco raggiungere tempestivamente la zona. Tre guardie giurate sono state aggredite e lievemente ferite, quindi non si registrano particolari situazioni di salute per le tre guardie giurate, soltanto lievemente ferite nel tentativo dell'assalto a portavalori. Almeno 5 i rapinatori che poi sono fuggiti non portando a termine l'assalto. La dinamica è ancora tutta da ricostruire, non è chiara, ci sono al lavoro gli agenti della Polizia stradale e della squadra mobile. Il tratto di strada è chiuso, bloccato e si registrano proprio in quel blocco dell'autostrada su entrambe le corsie 4 km di coda. Per il momento è tutto, tutti gli aggiornamenti alle 13.15 nel telegiornale. Grazie, grazie mille Paolo. Cambiamo dunque argomento perché dobbiamo parlare di musica, di cultura, ma parliamo anche di ambiente, di territorio. Da Gianni Morandi a Dermalmeta a tutti gli artisti del concerto del 1 maggio 2022 a Taranto. Dopo due anni di stop imposti dalla pandemia, dunque torna nella città bimare l'1 maggio Taranto libero e pensante. Il festival musicale che dal 2013 è organizzato proprio in occasione della festa del lavoro a Taranto dall'Associazione di Promozione Sociale, il Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti. Sul posto, lì per noi, a raccontarci l'emozione, emozione che sarà trasmessa integralmente in diretta domenica a partire dalle 14.00 su Antenna Sud c'è il collega Gianmarco Sansolino. Gianmarco, buongiorno. Sì Valentina, buongiorno, buongiorno a te e a tutti i telespettatori di Mattina Sud. Insomma, noi con la telecamera vi stiamo già mostrando uno scorcio di quello che sta avvenendo nel parco delle mura greche di Taranto. Siamo proprio nei pressi di uno degli ingressi che è stato allestito e vi faccio notare subito un'attenzione. Questo dove ci troviamo prevede delle scale ma subito accanto c'è uno scivolo naturalmente per poter permettere davvero a tutti di partecipare, di esserci e di entrare in un omaggio Taranto. Venite con noi, cominciamo a mostrare qual è l'area che è stata organizzata. Tra poco avremo degli ospiti per proporvi tutte le anticipazioni di questo grandissimo evento atteso da tanti. Vi raccontiamo un retroscena. Valentina, eravamo qualche minuto fa nei bar circostanti e molta gente si chiedeva quanta persone arriveranno anche da fuori per poter assistere a questo evento dopo lo stop dettato dalla pandemia. Intanto vedete che quest'area è stata recintata. Perché? Questa è una novità di questa edizione. Perché negli scorsi mesi sono stati piantati numerosi nuovi alberi sia da questa parte che dall'altra. Quindi per decisione del comitato l'area è stata recintata per salvaguardare la natura. Come correttamente dicevi, sì, un grande evento di musica ormai con ospiti sempre più importanti di anno in anno dal 2013 in poi. Ma anche un evento che è stato palcoscenico per le questioni ambientali di Taranto. Note a tutti e quindi il comitato ha detto attenzione, noi non possiamo torcere nemmeno un ramo, nemmeno una foglia. E quindi l'area è stata giustamente recintata per evitare problemi. E questo ha causato anche un altro aspetto, un altro cambiamento rispetto alle scorse edizioni. Il palcoscenico cambia posizione e addirittura viene anche ruotato di circa 90 gradi. Lo vedete lì, è stato già allestito. Il palco è già pronto ma l'area naturalmente prevederà tante altre situazioni da mettere a punto. Oggi ancora i mezzi sono pienamente al lavoro, ne abbiamo intravisto intanto la presidente del comitato, Simona Fersini. Tra poco ci raggiungerà anche Virginia Rondinelli del comitato per fornirci qualche dettaglio in più. Gianmarco, a proposito di quello che è il binomio che ormai da diverso tempo accomuna la città di Taranto, la caratterizza in realtà salute e lavoro. Noi lo scorso anno, proprio in occasione di un primo maggio diverso per i tarantini e per tutti coloro che erano abituati, che sono abituati ormai nel tempo a raggiungere Taranto in occasione del primo maggio, abbiamo realizzato un servizio. E allora pregherei la regia di farcelo vedere e nel tuo caso Gianmarco, riascoltarlo. Grazie mille. Grazie mille. Una mannaia sul mondo intero, su attività lavorative, interi comparti, su tante, tantissime famiglie. Lavoro o salute? Chiederselo non è banale. La risposta non è poi così tanto scontata. Nessuno dimentichi che ci sono territori da sempre chiamati a scegliere l'uno o l'altro. Eppure il lavoro e la salute dovrebbero andare a braccetto in una società che si rispetti, che rispetti la persona, le sue capacità, la dignità, che dia valore e giusto riconoscimento all'impegno, al tempo, alla professionalità. Il primo maggio 2021, stanchi, stremati, tristi, è un inno, un'invocazione al diritto alla salute e al lavoro. Senza l'uno o l'altro comunque saremmo uomini malati. Gianmarco, in realtà non sembra passato quello che si suol dire un'eternità, perché a Taranto si parla sempre e spesso di salute e lavoro. Nessuno dunque dimentichi che ci sono territori che vivono in questa contrapposizione in realtà a tutti i giorni dell'anno. Ed il concertone del primo maggio, in realtà dell'uno maggio a Taranto, non fa altro che dal 2013 tenere alta l'attenzione su questi temi, far sì che nessuno dimentichi e che nessuno abbassi mai la guardia. E certo, perché questo evento non a caso cade il primo maggio per decisione specifica degli organizzatori. Questo si chiama 1 maggio Taranto, proprio per differenziarlo dal grande evento che caratterizza anche la capitale, la città di Roma. Qui però il tema è ben differente, perché come dicevamo la nascita nel 2013 parte da una necessità diversa, quella di portare alla ribalta tutte quelle cose che all'epoca non erano note, in merito proprio a questo binomio, se così possiamo dire, anche se si parla di una contrapposizione. Salute o lavoro? Ecco, qui si volevano mettere insieme entrambi i temi. E questo è stato un palco importante anche per portare alla ribalta ospiti che hanno parlato delle proprie esperienze. Parliamo di persone arrivate dalla Sicilia, dalla Lombardia, per raccontare esperienze simili o comunque sempre per parlare di questo dibattito tra salute e ambiente. E anche questo evento ha contribuito a creare una consapevolezza diversa nei tarantini che oggi, come tutti sapete, sperano evidentemente in una transizione ecologica che non è soltanto quella voluta dal governo ma che a Taranto si sta in qualche modo facendo. Allora, intanto, tornando alla cronaca della mattinata, Valentina, devi sapere che questa è quella dedicata al montaggio dei bar. Aspetta un attimo Gianmarco, prima di mostrarci queste immagini e di raccontarci ciò che stiamo vedendo tu giustamente facevi riferimento al fatto che l'aver portato sul palco anche testimonianze che arrivano da altre parti d'Italia sempre per parlare di salute e lavoro forse anche la scelta poi negli anni, il fatto che si sia consolidata l'importanza ed il prestigio dell'1 maggio a Taranto, quindi la scelta di aver portato, di aver sempre cercato di allargare la maglia anche ad artisti di fama nazionale, di alto prestigio, di alto profilo è sicuramente anche un modo per far sì che chi magari ha una visibilità maggiore possa aiutare nel mantenere alta questa attenzione, non rimanga qualcosa di esclusivamente locale? Sì, infatti Taranto è arrivata alla ribalta nazionale anche in merito alla cronaca ai media nazionali proprio attraverso questi ospiti, attraverso questi eventi ricordiamo che gli stessi promotori, due nomi su tutti, Michele Riondino e Roy Paci hanno contribuito a far sì che questo messaggio, quello tutto Tarantino fosse protagonista a livello nazionale intanto il nostro Sebastiano Bufalo vi sta facendo vedere alcune delle magliette che sono state stampate tra quelle storiche, quelle nuove dedicate a questa edizione perché la vendita di queste magliette oltre a contribuire ad una brandizzazione anche dei presenti perché è bello anche avere un ricordo di questa giornata, ripeto, pensiamo a chi arriva da fuori anche da molto lontano, contribuisce, contribuisce alle attività del concerto lo ricordiamo è interamente autofinanziato, questo è un particolare al quale correttamente aggiungiamo noi, gli organizzatori ci tengono e qui intanto ci stiamo spostando perché vi mostriamo qui dove ci sono delle spillatrici ma anche delle macchine per il caffè per poter, come dicevamo, anche rinfrescarsi durante queste giornate vedete che c'è qualcuno anche del comitato che sta lavorando alla cremente perché qui guardate si suda, si lavora con bracciaforti ma anche al computer perché bisogna continuare, immaginate quanti atti burocratici per poter permettere l'utilizzo dell'area pensate che anche per gli alberi il comitato ha deciso di manlevare il comune di prendersi la responsabilità per l'area perché poi chiaramente dopo un evento di questo tipo si provvede anche alla pulizia e tutto deve essere ben organizzato vi faccio notare anche quanti bagni sono stati posizionati proprio per evitare che ci possano essere situazioni spiacevoli allora andiamo da quest'altra parte perché volevo coinvolgere anche se l'abbiamo già intervistata nei giorni scorsi ma ci fa piacere coinvolgerla è qui con noi Simona Fersini io volevo approfittarne per fare con lei una riflessione intanto buongiorno e bentrovata buongiorno Simona ti do del tu, ci conosciamo ormai da qualche anno io ricordo un momento proprio in questo parco di tutto questo Valentina non c'era nulla perché quell'anno era il primo anno di lockdown non si poteva svolgere l'evento però noi con le mascherine, con i distanziamenti siamo venuti lo stesso qui da buoni tarantini e abbiamo intervistato Simone e altri componenti del comitato chiedendo a lei che effetto ti fa vedere tutto questo vuoto beh oggi c'è tanta differenza però qual è il ricordo di quegli anni di stop? è brutto, brutto, brutto perché era una sensazione noi venimmo qui il 30 aprile, il sabato pomeriggio e qui il sabato pomeriggio è pieno di gente che ascolta il soundcheck quell'anno invece c'era la desorazione quindi un brutto ricordo però quest'anno e quante emozioni invece c'è quest'anno? siamo ritornati e siamo soddisfatti e da studio chiedono quante emozioni invece c'è quest'anno? eh sì, un po' di brividi e non per il freddo siamo soddisfatti, siamo contenti di essere ritornati volevamo ritornare in carne ed ossa per saltare per ascoltare i messaggi che verranno comunicati dal palco sono messaggi importanti, messaggi contro la guerra la voce dei territori in lotta e quindi siamo... non vediamo l'ora insomma c'è tanta fatica, sudore dicevamo prima dietro questa organizzazione perché poi il primo maggio tanti arrivano saltano, si divertono è giusto che sia così con la musica ci sono questi momenti di riflessione che non sono mai mancati però dietro c'è una grande organizzazione ed è quella che stiamo provando a raccontare in questi giorni che racconteremo anche oggi siamo stanchi legittimamente però felici sì, stanchi sì, sì, però siamo stanchi ma felici e poi volevo rimarcare un aspetto Gianmarco, prima di rimarcare una cosina però voglio fare io una domanda a te tu che quel territorio lo racconti sempre, quotidianamente racconti gli aspetti belli racconti ciò che fa sorridere ma tante volte hai raccontato anche ciò che stringe il cuore ciò che fa piangere tu Gianmarco quale emozione provi ad essere lì questa mattina e poi tra l'altro ci sarai anche domenica un po' di tuo anche beh Valentina, guarda è veramente toccante ricordare quel momento adesso dobbiamo dedicarci al programma di quest'anno agli artisti, all'attesa che c'è però mi è piaciuto fare questa riflessione con Simona proprio per quello che dicevi, perché c'è una forte emozione davvero anche noi che siamo chiamati a raccontarla perché vedere quel parco, quell'anno tutto vuoto noi facciamo anche un servizio avvalendoci di alcune riprese effettuate con un drone era davvero desolante perché questo parco è enorme è un parco naturale, molto bello con dei richiami anche storici alla Magna Grecia che caratterizza la città di Taranto nelle sue origini e fu davvero desolante quest'anno finalmente torneremo torneremo con un evento che parla di Taranto che porta Taranto in alto anche perché non è mai scontato fare qualcosa che possa indurre alla riflessione i tarantini ma non soltanto i tarantini uno dei pochi eventi in effetti forse che negli anni negli ultimi anni perlomeno ho fatto parlare di Taranto in maniera così importante vorrei chiedere alla tua ospite Gianmarco quanta consapevolezza a distanza di nove anni ormai parliamo del 2013 quando tutto è cominciato quanta consapevolezza hanno ora i tarantini se ce l'hanno quanta è maturata del fatto che la città può vivere anche e soprattutto di cultura io penso che ormai tutti i tarantini abbiano maturato questa questa consapevolezza però bisogna gettare gettare le basi ed è quello che stiamo ed è quello che stiamo facendo e io credo che lo stesso nessun lavoratore di ILVA sia contento di lavorare in quel posto io sfido chiunque a lavorare in un posto a 400 a 400 gradi pericoloso voglio dire i rinvii a giudizio di questi giorni sono la testimonianza che in quella fabbrica non si tutela neanche la salute dei lavoratori figuriamoci come possono pensare a salvaguardare la salute dei cittadini e risuonano le parole della Morselli che non meno di qualche tempo fa disse che l'ILVA produce in maniera criminale forse è l'unica volta in vita sua che ha detto la verità Gianmarco insomma Valentina è chiaro che a Taranto la storia parla da sé al di là delle opinioni personali è chiaro che la stessa Simona faceva riferimento alle indagini che qualche giorno fa abbiamo raccontato anche attraverso i telegiornali coinvolgono sette dirigenti dell'allora Arcelor Mittal che è la stessa azienda il riferimento specifico è di un episodio che si è verificato nel porto uno degli sporgenti in uso ad Arcelor Mittal oggi a Ciaieria d'Italia quando un gruista quarantenne quindi esperto massaro finì in mare purtroppo perdendo la vita a quanto pare questo è quello che dice la procura e questo che oggi si domanda alla procura per delle misure di sicurezza sul lavoro forse non così attente ma su questo chiaramente lavoreranno coloro i quali sono competenti le autorità competenti ad aprire il live Gianmarco ci saranno quattro gruppi emergenti presentati da Sabrina Morea e da Gianni Raimondi selezionati tra l'altro da una giuria di esperti nell'ambito del contest destinazione 1 maggio e Francesco Lettieri vincitore del contest del festival Musica contro le mafie che cosa possiamo dire di più qualche anticipazione relativamente a questi artisti emergenti allora gli artisti emergenti che hanno vinto il contest si esibiranno sul palco dell'1 maggio diciamo che apriranno il concerto fra di loro ci sarà un vincitore finale che si esibirà nel festival Musica contro le mafie una sorta di gemellaggio fra noi e il festival Musica contro le mafie quindi chi vince il contest dell'1 maggio canta sul palco del festival e chi vince quel festival suona sul nostro palco perché la musica deve lanciare anche dei messaggi importanti e non è un caso che sul palco dell'1 maggio quest'anno ci sarà Luisa Impastato la nipote di Peppino Impastato Valettina volevamo farvi notare anche con la nostra telecamera che oltre alle attenzioni che vi abbiamo fatto notare precedentemente qui ci sono dei bagni specifici per la diversabilità ma poi anche quest'aria questo palchetto con lo scivolo immagino si è dedicato proprio a loro siamo abbastanza orgogliosi quest'anno abbiamo fatto di tutto per rendere più agevole lo spettacolo a chi non ha le stesse possibilità di stare in piedi tanto tempo e per cui abbiamo allestito un palco per diversabili e saranno assistiti dall'associazione noi e voi che si occuperanno appunto di rendere più confortevole il periodo in cui vorranno restare con noi a vedere il concerto speriamo di aver fatto cosa gradita ecco vedete ve lo stiamo facendo vedere più nel dettaglio più da vicino intanto ci sono tante altre transenne che verranno montate nelle prossime ore e anche dei tavolini perché ricordiamo lo accennavamo prima che dopo tante ore è giusto anche avere la possibilità di un ristoro di bere qualcosa di fresco e ne approfittiamo a questo punto per ricordare anche una delle novità degli ultimi anni il vino che porta il marchio 1 maggio Taranto di che cosa si tratta non è solo un'operazione di marketing ma qualcosa che concretamente può aiutare le vostre attività e in particolare quello che il comitato liberi e pensanti di Taranto realizza per l'1 maggio il concertone si a fronte di un'erogazione liberale è possibile in questi giorni ritirare una bottiglia di vino questo è anche grazie al nostro sponsor le cantine Giaia che si mettono ogni anno a disposizione per sostenere le attività del comitato c'è un'etichetta dedicata noi adesso proveremo anche a farvi vedere qualcuna di queste bottiglie tra l'altro Gianmarco a proposito sono terminate le bottiglie sono terminate pensate un po' arriveranno nel pomeriggio Valentina sono sempre di più le attività che supportano l'1 maggio libero e pensante e inclusivo arrivati a questo punto visto tutta quella che l'organizzazione è dedicata all'inclusività che abbiamo visto la domanda da studio faceva riferimento anche ad una collaborazione di una sinergia per una partecipazione di tutti come dicevamo anche di diversamente abili facciamo riferimento ad esempio all'associazione noi e voi come siete entrati in contatto siamo entrati in contatto attraverso la conoscenza in questi anni per cui non è la prima volta che collaboriamo abbiamo collaborato al di fuori dell'1 maggio e poi questo legame si è rinsaldato nel corso degli anni proprio a testimoniare che il lavoro in rete si può fare grazie grazie Simona Fersini del comitato Gianmarco il lavoro in rete ma io sono curiosa di una cosa numericamente di quanta gente parliamo e al lavoro alla clemente per l'organizzazione in quanti si ritrovano ormai dal mattino fino alla sera in tuta lì ad organizzare siamo in tanti siamo in tanti siamo in tanti perché oltre ai volontari dei bar ci sono i volontari della protezione civile che ci danno la mano poi abbiamo altri volontari a supporto della protezione civile siamo veramente in tanti e tutti quanti si mettono a disposizione gratuitamente per per regalare qualcosa di bello alla città anche perché attenzione per i pochi che non lo sapessero non c'è un biglietto di entrata non si paga nulla per partecipare a questo concerto anche quest'anno però c'è la possibilità attraverso dei piccoli saldadanai di lasciare un piccolo contributo se il concerto è piaciuto ripeto per poter collaborare a questa organizzazione di un concerto interamente autofinanziato e quindi sì con dei partner ma non ci sono sostanzialmente enti che forniscono dei soldi poi detto in maniera semplice vorrei ricordare le regole di accesso all'area all'area parco perché è molto importante allora è vietato introdurre bottiglie di vetro e lattine è vietato introdurre cibo spai urticanti gli amici animali possono venire e sono ben accetti l'importante che abbiano siano al guinzaglio e che abbiano la museruola all'ingresso del palco verrà fatto una sorta di prefiltraggio per cui qualora dovessero esserci cose che non consentite verranno tutte quante cessinate quindi invitiamo chi viene ad arrivare come si va allo stadio senza niente puliti senza solo se stessi è una buona dose di energia io quando vado al campo il biglietto il documento neanche le chiavi di casa mi porto così non le perdo giustissimo Gianmarco ricordiamo insieme quali sono stati gli ultimi dati relativamente all'affluenza dell'ultima edizione prepandemica ricordiamo di che numeri parliamo nel 2019 eravamo intorno ai 35.000 persone nel 2018 eravamo tipo 45.000 parlo di biglietti distaccati quest'anno l'aria è disponibile per una capienza massima di 25.000 persone in contemporanea e nonostante la capienza massima sia pari a 30.000 persone abbiamo volutamente fatto una richiesta inferiore per stare più larghi visto che siamo comunque in tempo di covid ovviamente dal primo non c'è l'obbligo della mascherina noi raccomandiamo ne raccomandiamo comunque l'utilizzo ma per una per una protezione nostra individuale poi se domani dovesse cambiare la normativa e ci dovessero obbligare ad usare la mascherina anche all'aperto vorrà dire che entrerà solo chi ha la mascherina però al momento non c'è questo obbligo continuiamo continuiamo a vedere le immagini il soundcheck si svolgerà a partire da questo pomeriggio da domani quali sono dunque i tempi anche un po' di arrivo degli ospiti che si esibiranno allora Valentina gli ospiti arriveranno tutti domani con un soundcheck che noi immaginiamo possa partire già nelle prime ore del mattino per poi concludersi nel pomeriggio si poi verrà si interromperà perché ci sarà il sopralluogo definitivo della commissione provinciale di pubblico spettacolo per il rilascio dell'autorizzazione finale riprenderà nel pomeriggio fino alla fine la domenica mattina vorrei ricordare che c'è un dibattito sul ruolo dei lavoratori nella transizione ecologica sarà su piazza Federico Fellini sarà fatto in maniera circolare per cui metteremo delle panche in cerchio e ci saranno dei relatori con i quali discuteremo di questo tema il dibattito sarà moderato dalla giornalista Maria Cristina Fraddosio grazie allora Valentina io ne approfitterei per spostarmi adesso a farvi vedere altre aree anche perché potremmo coinvolgere qualche altro componente esatto nel frattempo Gianmarco prima abbiamo parlato di quattro band emergenti che sono state selezionate appunto da una giuria di esperti però ad aprire proprio il concerto sarà Diodato il cantautore Tarantino si esibirà con la sua Fireumore che in una suggestiva Taranto crea sempre tanta emozione eh beh Diodato come forse molti saperanno è un Tarantino un Tarantino doc perché perlomeno ha vissuto per molti anni qui a Taranto in molti chiaramente come succede nelle città non troppo grandi come Taranto conoscono i genitori hanno rapporti anche con la famiglia c'è chi ci è andato per dire a catechismo insieme quindi ci sono anche dei ricordi intimi che legano alcuni tarantini a Diodato Diodato che lo ricordiamo ha fatto un ex pulano indifferente con questa canzone che per i Tarantini ha un valore maggiore un valore particolare proprio per questo legame territoriale ma non soltanto noi intanto noi approfittiamo per avvicinarci al palcoscenico perché vogliamo farvi vedere poi al di là della magia che riusciremo a trasmettere in diretta il primo maggio anche quello che succede prima quando le luci sono spente quando la musica non c'è guardate che struttura imponente è stata organizzata anche dal punto di vista tecnico è evidente che qui ci sia stato uno sforzo non indifferente ci sono dei LED wall questi pannelli LED molto grandi è pieno di casse adesso ve ne mostreremo alcune guardate quante ce ne sono soltanto a terra ma poi molte sono anche sospese per poter permettere come gli esperti ci possono meglio raccontare che il suono arrivi fino in fondo perché il parco qui è ampissimo lo abbiamo detto un'area che può ospitare 30.000 persone per questione covid per una particolare attenzione e delicatezza del comitato si è deciso di inoltrare una richiesta di 25.000 persone che comunque come sapete è un numero assolutamente importante e imponente e noi vogliamo anticipare che con ogni probabilità non sarà difficile far sì che questo numero venga raggiunto perché l'evento è molto sentito e come dicevamo l'evento Tarantino è oggi diventato un evento di caratura perlomeno nazionale poi vedremo se quest'anno magari qualcuno ci potrà stupire anche dal resto del mondo magari qualche Tarantino che è andato fuori per lavoro per degli studi che è tornato per l'occasione tra poco vi porteremo nel backstage per farvi vedere anche quanto è stato allestito lo ricordiamo soprattutto per coloro che sono lontani che abbiamo citato poco fa che Antenna Sud trasmetterà in diretta esclusiva tutto l'evento e abbiamo proprio qui dietro un'area degli stand dedicati proprio alla nostra emittente che avrà la possibilità di intervistare in esclusiva alcuni degli artisti ma non soltanto di riprendere minuto per minuto tutte le emozioni e la magia di un omaggio Taranto ecco intanto che facciamo parlare le immagini di questa giornata che è dedicata fondamentalmente alla voglia di tornare alla normalità una nuova normalità avrebbe detto Michele Riondino sempre misurata e calibrata sul rispetto degli altri delle regole necessarie che saranno osservate pare che lo stesso Michele Riondino abbia detto che sul palco saliranno tanti amici che non erano mai venuti abbiamo addirittura dovuto dire dei no eccellenti dicendo però dei sì nuovi a proposito di quella zona Gianmarco dove tu ti trovi al momento possiamo dare qualche informazione utile relativamente alla viabilità alla possibilità di parcheggiare nelle vicinanze perché se qualcuno all'ascolto dovesse decidere di essere lì sul posto domenica a partire già dal mattino come abbiamo ascoltato una mattinata ricca come sempre di interventi quindi un momento in cui si fa un po' il punto si focalizza l'attenzione su quelle che sono le tematiche che vengono poi comunque affrontate anche nel pomeriggio anche attraverso la musica come si fa a raggiungere quella zona? State vedendo in questo momento uno dei lati del parco di accesso sono tutti sostanzialmente circondati da alcune palazzine e parcheggiare nelle immediate vicinanze del parco non è facilissimo non è possibile per questo intanto nella piazza Fellini che citavamo prima possiamo provare anche a riprenderla ad avvicinarci perlomeno con lo zoom c'è un'area dedicata ma attenzione perché quella sarà un'area dedicata al parcheggio con pass e noi immaginiamo sicuramente anche a chi ha un pass di diversa abilità proprio per poter permettere un accesso facilitato per tutti gli altri le aree di parcheggio sono quelle ad esempio per chi conosce un minimo Taranto che fanno riferimento all'area retrostante della concattedrale Gran Madre di Dio e poi siamo già nei paressi di Viale Magna Grecia quindi ecco un consiglio utile può essere sicuramente quello se si ha intenzione di seguire il concerto di arrivare presto o perlomeno al mattino anche se dobbiamo dirvi dobbiamo raccontarvi anche un aspetto molti Tarantini anche che abitano a isolati di distanza preferiscono arrivare a piedi proprio perché il parcheggio diviene difficile perché il parco non ha lo ripetiamo delle aree parcheggio specifiche se non la piazza che vi abbiamo mostrato e quindi davvero diviene particolare anche la viabilità subirà qualche probabile rallentamento ecco che intanto stiamo passeggiando nel backstage ancora tutto incredibilmente vuoto ma io immagino che al massimo già domani tutto sarà pronto perché poi il primo maggio avete sentito già dal mattino l'evento parte con questo grande dibattito un tratto caratteristico identitario del concerto un dibattito oltretutto che è sempre stato partecipato con la gente le domande le domande le risposte le opinioni e poi la musica a partire dal primo pomeriggio con la nostra diretta che partirà alle 14 ecco che qui si scorge un'altra area del parco tutto è stato recintato perché è vero che l'ingresso è gratuito ma comunque viene fornito all'ingresso un biglietto che non ha una validità commerciale o economica o a livello di tasse ma ha una validità di contapersone per capire quante persone ci sono in quanti hanno partecipato ecco vedete questa altra area però è tutta circondata da verde o da strade quindi parcheggiare nei pressi è difficile vi consigliamo di arrivare con anticipo noi tra poco raggiungiamo gli altri componenti del comitato qualcuno sta arrivando in ritardo però insomma capite bene che sono un po' sparsi anche tra gli enti pubblici comune di Taranto Questura per affinare gli ultimi documenti le ultime pratiche burocratiche le ultime pratiche certo le ultime pratiche burocratiche per una giornata importantissima quella dell'1 maggio a Taranto tra l'altro la città Bimare una delle città considerate soprattutto negli ultimi anni culturalmente più attive del sud Italia e poi come dicevamo c'è questo aspetto fondamentale da non sottovalutare perché la narrazione dell'1 maggio a Taranto ha innescato in qualche modo una serie di coraggiosi intenti da parte di molti artisti che sono tornati a parlare di politica di impegno sociale ed hanno deciso di farlo da quel palco è un po' definito il concerto dell'1 maggio a Taranto un'enzima catalizzatore perché si è sentiti liberi ci si è sentiti tante volte uniti seppur distanti geograficamente da alcune situazioni che si vivono abbiamo parlato io in apertura ho detto da Gianni Morandi ad Ermalmeta ma naturalmente gli artisti che si esibiranno su quel palco sono davvero tanti ad aprire il concerto lo ricordiamo Diodato ormai legato alla città di Taranto la canzone che aprirà il concerto sarà proprio Fai Rumore che è stata vincitrice tra l'altro del festival di Sanremo nel 2020 poi sarà la volta di quattro band emergenti che sono state selezionate appunto da una giuria di esperti nell'ambito di un contest che ha denominato proprio destinazione 1 maggio a seguire Francesco Lettieri che è il vincitore del contest del festival musica contro le mafie è un contest un festival che si è svolto a Cosenza nel settembre scorso con cui un omaggio libero e pensante è gemellato ormai da anni non mancheranno poi naturalmente come siamo stati abituati a vedere negli anni a parte gli ultimi due di stop legati all'emergenza sanitaria da covid-19 delle incursioni a sorpresa ed esibizioni anche da parte dei direttori artistici Roy Paci e Michele Riundino cercare di carpire qualcosa di più ad oggi il venerdì che precede l'1 maggio libero e pensante è una cosa davvero vi assicuriamo molto molto ardua però Gianmarco qualche altro nome certo c'è e allora lo facciamo confermo confermo chiaramente è una linea precisa una scelta precisa quella di mantenere un po' di suspense fino alla giornata poi quella più attesa del primo maggio io intanto tra poco vediamo anche questi nomi assolutamente coinvolgiamo i componenti del comitato ne approfitterei per farvi vedere anche chi è già arrivato anche se qui non è iniziato nulla buongiorno parteciperete al concerto il primo maggio certo sono sempre stato anche quest'anno ci saremo ci stiamo già preparando stiamo seguendo i lavori avete già preso il posto sì no portiamo il cane portiamo il cane a giocare chiaramente questa è un'area dedicata al primo maggio ma anche un'area naturalistica molto utilizzata vedete che bello c'è questo nostro amichetto contro zampe che ne sta approfittando per per giocare libero signora da quanto tempo portate qui il cane siete della zona se possiamo chiederlo sì sì siamo della zona che è vicino a casa frequentate il parco sì sempre sì è perché è l'unico spazio verde dove uno può passeggiare correre portare gli animaletti insomma e quindi dal 2013 la signora è una spettatrice sì sì speriamo che lo mantengono così pulito ci chiedono da studio ma voi dall'inizio dal primo anno dal 2013 venite a seguirlo nel concerto un po' sì voglio dire perché c'è poi tanta gente poi con questa pandemia sai Gianmarco ma tu che invece negli anni lo hai sempre seguito l'1 maggio libero e pensante dal punto di vista giornalistico mi confermi il fatto che il pubblico di presenti sia un pubblico davvero eterogeneo cioè si trova dal ragazzino dalla famiglia con i bimbi al seguito con gli amici a quattro zampe sino a qualcuno un po' più Valentina guarda intanto che cosa vi facciamo vedere c'è anche chi sta seguendo lo streaming della nostra diretta di Mattina Sud questa testimonianza che c'è tutto live in piena diretta vedete anche attraverso il cellulare chi è più avanti con l'età non dobbiamo nascondercelo segue segue le nostre dirette ci fa piacere e allora torno alla risposta giustamente mi ponevi una domanda che pubblico c'è assolutamente eterogeneo questo non è né un evento per ragazzini né un evento dedicato a chi è solo attento ai temi ambientali ma davvero molta gente si è alternata nel corso degli anni da chi torna appositamente dai tanti ragazzi studenti che dedicano la giornata a questo concerto e quindi restano qui a Taranto fino a chi appunto come dicevamo più avanti con l'età gente di mezza età che viene qui a seguirlo un po' perché gli artisti che sono intervenuti sono sempre eterogeni anche loro perché ci sono le nuove proposte c'è la musica fino anche rock ma persino quella più popolare più comprensibile e apprezzabile da tutti pensiamo oggi ad un nome su tutti Gianni Morandi può essere apprezzato davvero da tutti non ti dico chi sarà il mio preferito Gianmarco non te lo dico a chi è più avanti va bene però lo scopriremo secondo me ti avviso così non mi fai nessuna domanda cattivella in diretta no no assolutamente io ancora non ce l'ho il preferito perché aspetto il primo maggio aspetto di ascoltarli qui perché magari perché no anche qualche nome devo ammettere che non conosco qualche gruppo qualche cantante che non conosco potrebbe stupirci perché nel corso degli anni è successo anche questo che artisti più o meno conosciuti abbiano avuto un'opportunità di farsi conoscere meglio attraverso questo concerto perché attenzione si svolge a Taranto noi di Antenna Sud per anni abbiamo trasmesso in diretta l'evento ma molto spesso è sempre di più qualcosa che all'inizio non accadeva dobbiamo dire i media nazionali dedicano degli articoli nel caso della carta stampata i siti ma anche delle dirette web all'evento e ciò che significa? beh significa che anche questo così come quello di Roma poi può diventare un palcoscenico per farsi conoscere e a proposito di questo ne approfitterei per fare una riflessione il concerto di Roma ebbene in molti soprattutto all'inizio hanno provocato gli organizzatori hanno detto ma questo è un controconcerto per alcuni è stato definito così e gli organizzatori ci hanno sempre invece chiarito a spiegare che non si tratta di un evento contro qualcun altro bensì di un evento tarantino che parla di Taranto che parla di musica soprattutto però di temi di temi importanti abbiamo citato l'ambiente ma qui guardate ci sono le mamme coraggio si parla anche purtroppo di violenza contro le donne di misure che possono evitarle insomma tanti temi anche con nomi importanti che negli anni si sono alternati sono spesi buongiorno come sta andando l'organizzazione alla grande come al solito vedete qui si continua a utilizzare la mascherina e il signore ci dice sono senza voce sono senza voce perché l'ha persa immaginiamo durante le fasi di organizzazione una domandina solo poi le lasciamo così le facciamo preservare la voce che cosa si potrà degustare sicuramente birra perché vediamo le spillatrici e poi bibite bibite più in generale quindi ce ne sarà per tutti chi non ama la birra può stare tranquillo c'è il caffè c'è l'acqua c'è altre bibite chiaramente grazie 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 ah guardate cosa abbiamo qui da farvi vedere è finito perché Simona ce l'aveva detto che le bottiglie sono andate tutte vendute però guardate questo è il vino brandizzato 1 maggio Taranto 2022 che è stato realizzato appositamente per l'evento e che può essere gustato qui nel corso della giornata ma anche è in vendita in alcuni bar in alcuni punti commerciali della città proprio per poter contribuire anche prima dell'evento è una bella etichetta guardate negli anni ci hanno abituato ad etichette sempre più belle intanto qui Valentina ricordiamoci che siamo al mattino ancora noi siamo svegli da un po' ma c'è chi si sta svegliando adesso ci propongono un caffè Valentina possiamo accettare tu sei la padrona di casa di mattina puoi accettare Gianmarco puoi accettare certo che puoi accettare ma anche il nostro cameraman perché ci sta facendo vedere tutto si sta stancando il nostro Sebastiano lo ringraziamo Sebastiano Bufalo scusami Gianmarco quindi mi stai chiedendo l'autorizzazione per spegnere il collegamento e bere il caffè no facciamo così allora assolutamente no lo vediamo in diretta un giusto compromesso facciamo un augurio al 1 maggio un buon caffè a prima mattina e poi ci si aspetta molte ma molte persone è pronto all'ondata di gente che verrà qui a chiederle il caffè si speriamo domenica dicono in meteo dice che è buono il tempo sarà sole speriamo che arrivano grazie al nostro comitato libero e pensante lei è un volontario lei fa parte del comitato si grazie grazie ci dica anche il nome così la presentiamo Mimmo signor Mimmo che noi ringraziamo davvero di cuore per questo gentile pensiero del caffè ma questo ci serve guardate a raccontarvi quello che c'è dietro anche i sorrisi la voglia di tornare a proporre un evento di questo tipo la cosa che è più che è più bella anche mostrare soprattutto in questa fase organizzativa Gianmarco corregimi se sbaglio magari chiedi anche al tuo ospite è questo spirito di squadra perché il comitato da sempre dà l'impressione a noi ma tutti quelli che ci seguono di essere poi fondamentalmente degli amici di essere persone che condividono un impegno comune e allora mettono il proprio tempo le proprie competenze a disposizione quel giorno e quasi un giorno quando arriva l'1 maggio in cui ci si rilassa perché si è fatto tutto ciò che si poteva ciascuno sta a posto con la propria coscienza ci si gode lo spettacolo e io l'immagino poi andare a cena così la sera con la tensione che è andata via e che hanno regalato a tutti un'emozione un'emozione che parte sicuramente anche dal tema del lavoro della giustizia sociale della giustizia ambientale la parità di genere la pace soprattutto quest'anno eh sì Valentina avete sentito tra le anticipazioni tra le poche anticipazioni che Simona ci ha potuto fornire una amica per noi proprio perché per tanti anni abbiamo trasmesso questa diretta ma per i telespettatori chiaramente con lei che in prima linea rappresenta questo comitato intanto come promesso ecco il caffè tra le anticipazioni dicevamo si parlerà anche di guerra è un tema che non può non riguardarci non interessarci ricordiamo che Taranto è stata una tra le città che ha raccolto e che ha accolto tantissime persone che arrivavano proprio da quella situazione dalla guerra noi abbiamo raccontato anche storie purtroppo che hanno toccato il cuore famiglie con bambini piccolissimi dopo giorni e giorni di viaggio allora Valentina la provincia ionica non ha lesinato aiuti la provincia ionica ha accolto si è riconfermata terra d'accoglienza e lo continuo ancora a fare quotidianamente è giusto sottolinearla questa cosina qui allora guardate adesso che cosa vi facciamo vedere attraverso l'amico Francesco Manfuso che sta effettuando delle riprese attraverso il drone guardate un po' che belle riprese direttamente dall'alto per farci vedere il grande palco allestito da un'altra prospettiva rispetto a quello che vi avevo mostrato con la nostra diretta guardate anche l'area come è ampia attraverso queste immagini riusciamo a vederle a vederlo in maniera più chiara e vedete anche il vuoto che caratterizza ancora queste ore vi proponiamo queste immagini perché poi vi faremo vedere il confronto durante la giornata del primo maggio con quello che sarà un parco assolutamente pieno grazie a Francesco Manfuso torniamo dai confronto del comitato che sono assolutamente presi dalle organizzazioni dalle attività però possiamo approfittarne anche per capire velocemente si Gianmarco cerca di capire qualche altra informazione sto facendo un bel lavoretto perché devo incassare tutti gli orari dei soundcheck diciamo che dal punto di vista tecnico delle cose un po' più ingarbugliate da fare perché bisogna tener conto degli arrivi degli artisti delle loro esigenze tecniche quindi organizzare i soundcheck con il timing dando a disposizione la mezz'ora canonica o i 45 minuti è un po' diciamo abbastanza complicato proprio perché sono 24 artisti quindi sono 25 artisti 24 cambi palco è abbastanza impegnativa e qui c'è un evento nell'evento perché il soundcheck già raccoglie tantissime persone è vero? diciamo che il soundcheck è una delle cose più belle rilassanti e rilassate del concerto dell'1 maggio perché già forse non per gli artisti però che hanno anche un po' l'ansia anche i più esperti ma in realtà poi si riesce a instaurare un bel rapporto anche di tranquillità perché diciamo la fase di preproduzione è quella molto impegnativa in realtà quando poi arriva l'1 maggio è già quasi tutto organizzato tutto impostato quindi lavoriamo un po' diciamo sull'inerzia del lavoro che abbiamo fatto precedentemente però effettivamente la serie del 30 è molto rilassata perché soundcheck c'è poca gente sono tutti belli rilassati gli artisti sono ben disposti quindi da quanti mesi state e stai lavorando? è abbastanza diciamo l'1 maggio è un evento molto molto impegnativo comunque pochi per un evento del genere perché alla fine noi diciamo abbiamo messo la marcia da un paio di mesi a questa parte e abbiamo iniziato ad accelerare e quando lo raccontiamo ai nostri temi amici musicisti e tecnici che in realtà nasce tutto in così poco tempo non ci credo perché un qualsiasi altro evento ha una programmazione ha un lavoro di almeno un anno un evento del genere però noi siamo abituati a lavorare con questi tempi distretti ormai è la voglia di fare è la voglia della grande soddisfazione che poi porta tutta questa forza volevo farvi vedere una cosa guardate Sebastiano aiutaci vi facciamo vedere tutti i palazzi che ci sono qui intorno perché? perché questo è anche da raccontare in molti senza scendere da casa ne approfittano direttamente dai balconi per seguire il concerto e ci sono poi tantissimi video sui social che come immaginate pensiamo a Instagram TikTok fanno il giro del mondo contare ci saranno delle riunioni di condominio praticamente Gianmarco cioè si va sempre dal parente che è alla casa più prossima e Valentina non so se hai ascoltato ci stavano raccontando qualcuno si è lamentato quest'anno perché avendo girato il palco adesso c'è qualche palazzo escluso quindi saranno costretti a scendere sì sì qualcuno si è lamentato ha detto ma perché mi avete girato il palco che io bello mi piazzavo col tavolino e mi vedevo il concerto e adesso ti tocca scendere venire a consumare i bar naturalmente io invece avevo chiesto una cosa ma che voi sappiate si formavano un po' delle piccole riunioni di condominio cioè si cercava sempre il parente che aveva l'abitazione più prossima assolutamente sì questa è proprio una tradizione nella tradizione perché ormai insomma dal 2013 ci sono passati sostanzialmente quasi dieci anni e sì perché molti ragazzi si chiedono nella giornata del primo maggio chi ha l'abitazione chi ha l'appartamento allora veniamo tutti da te ci guardiamo il concerto da lì poi c'è chi ha un semplice balcone ma c'è chi ha anche delle belle terrazze quindi ci si può organizzare con le tavolate magari si pranza si cena in compagnia c'è l'opportunità di seguirlo da lì anche se poi attenzione non è vero che si segue tutto da lì perché poi la tentazione di venire qui di venire in mezzo alla gente c'è sempre soprattutto per vivere in prima persona le emozioni le vibrazioni della musica perché quelli in pianto sonoro l'abbiamo fatto vedere prima è imponente e quindi insomma la differenza c'è anche se poi un po' l'intera città può godere di questi suoni siamo davvero in chiusura Gianmarco allora io ringrazio te ringrazio Sebastiano Bufalo che naturalmente ora potrà prendere il caffè ringrazio Gianni Raimondi che è lì accanto a te ma ringrazio tutti gli ospiti intervenuti aspettando l'1 maggio libero e pensante a Taranto al mattino dunque il momento del dibattito un focus su quelli che sono i temi fondamentali sempre molto attuali soprattutto nella città di Taranto ma che accomunano diverse città del bel paese intero e poi il pomeriggio la musica fa da traino da contenitore sempre per la stessa attualità occhi puntati dunque sulla città Bimare occhi puntati sul sull'1 maggio libero e pensante in diretta a partire dalle 14 su Antenna Sud 14 integralmente ogni istante ogni battito grazie a tutti voi Gianmarco grazie mille anche a te naturalmente vedremo anche te condividiamo questo caffè con tutti voi e grazie al comitato che gentilmente ci ha ospitato a voi buon proseguimento buon proseguimento mattina sud torna esattamente lunedì mattina alle ore 9 ricordate però vediamo insieme la sigla vediamo insieme la pubblicità in chiusura l'1 maggio libero e pensante domenica a partire dalle 14 su Antenna Sud 14 grazie a tutti voi cambia le tue stelle se ci provi riuscirai e ricorda che l'amore non ti spara in faccia ma bevo la notte grido più forte rido di te grazie a tutti io t'amo più della mia grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti